Siamo con il sindaco di Nocera Inferiore, l'avvocato Malleo Torquato, una città che se è cresciuta un po' da tutti i punti di vista, anche sul piano socio-economico negli ultimi anni, deve comunque fare i conti con le problematiche di una grande città dell'area nord della provincia di Salerno. Una città che per lei quanto è vivibile e quante problematiche ci sono per renderla più sicura, per renderla effettivamente vivibile a 360 gradi da ogni fascia della popolazione? Lo sforzo che fanno le amministrazioni comunali su tutti i fronti è notevole. I risultati che riescono a raggiungere sono solo parziali. Questo per vari ordini di ragioni, sia perché c'è un intervento sulla vita sociale di più competenze, di più soggetti che hanno ciascuno il dovere di intervenire a tutela della comunità e poi l'amministrazione comunale in genere è il terminale. Se possiamo dire, usare una metafora dialettale, è quella che prende le mazzate, cioè quella che di fatto deve fare front office o deve fare frontiera, prima barriera, per una serie di questioni su cui spesso non ha né competenza né possibilità di intervento. Per di più si somma questa difficoltà che è istituzionale, complessiva, anche una difficoltà territoriale. Noi siamo una porzione di un territorio più ampio, dove i problemi sono collegati, non sono gestibili e risolvibili soltanto da un comune. Penso alla questione del traffico, penso alla questione dell'inquinamento, alla questione dei trasporti. Quindi ci sono problemi che andrebbero affrontati in modo coordinato e in modo unitario. Quello che manca da tantissimo tempo, da tanti anni, è non soltanto una struttura di coordinamento che consente ai comuni di gestire insieme, ai comuni dell'Agronocerino, di gestire insieme e provare a risolvere insieme determinate difficoltà che li accomunano, ma è anche una visione comune. Cioè qui siamo ad una situazione addirittura anteriore. Non c'è una sensibilità comune da parte delle amministrazioni locali. Vuoi per ragioni politiche, vuoi per ragioni di isolamento, vuoi per difficoltà di dialogo, vuoi perché ci sono comuni che guardano altre porzioni del territorio provinciale, di fatto siamo obiettivamente isolati. Poi ci sono problematiche comprensoriali che andrebbero risolte, come si dice in gergo, a Monte. Penso alla questione dell'inquinamento dei fiumi, penso alla questione della trasportistica su rotaie, dove c'è una competenza regionale specifica per entrambe le questioni, o degli enti strumentali della regione, e così di seguito. Lei mette proprio il dito nella piaga quando parla di concertazione. Concertazione è un termine che è stato utilizzato negli anni passati, nel precedente decennio, che aveva comportato anche lei una serie di difficoltà, anche di critiche, probabilmente non vedendo il lato positivo poi della vicenda. si sono abbandonati questi strumenti e alla fine si è finiti proprio con il non dialogare più. Mi riferisco appunto al dialogo tra le amministrazioni comunali, tra i sindaci dei vari territori. Quale potrebbe essere oggi uno strumento, lei parla dell'assenza appunto di questo, che possa mettere insieme intorno a un tavolo nuovamente il comprensorio, le varie amministrazioni per discutere dei problemi in comune? Ci sono quelli che erano gli strumenti pensati negli anni inizio anni 2000, a fine anni 90, che hanno funzionato almeno in parte per un decennio circa, dal 2000 al 2010, hanno poi mostrato la corda, cioè hanno iniziato ad esaurire la loro funzione ben presto, e sono diventati degli strumenti di gestione del potere o di accasamento. Credo che la nostra è una delle prime amministrazioni che ha sollevato il problema della messa in liquidazione della patto territoriale, cui poi si è arrivati per necessità, che contesta ad oggi la funzionalità ad obiettivi comuni da parte dell'altro strumento di concertazione, che è l'agroinvest. Nel frattempo sono proliferati altri strumenti ideati per fare distretto sul territorio, penso al distretto industriale. Ci sono quelli che sono istituiti per legge da decenni, da decenni e decenni, ma che non assolvano alla funzione obiettiva perché non hanno gli strumenti neppure finanziari e spesso generano solo confusione perché nel frattempo si sono rimpinguati di personale ma poi non hanno i soldi o gli strumenti per mettere in funzione le macchine. Penso al consorzio di bonifiche e così di seguito. Quello che manca è un'azione di raccordo. Allora pensare che il traffico, per fare un esempio, di via Napoli sia gestibile e risolvibile solo dal comune di Nocere Inferiore è impossibile perché è strada di ingresso da Pagani, dall'Agroncerino, da Angri, da San Marzano. Pensare che il traffico proveniente da Codola, che scava il percorso, cioè attraversa il percorso sulla via del Tribunale che porta a Piazza Rendola, a Piazza dei Santi, è impossibile che lo possa fare da solo un comune perché per quanto possa inventarsi alternative viari o nuovi percorsi viari e in parte ci stiamo provando anche con qualche minima azione, ma proprio minima, di raccordo con la provincia è insufficiente. Tutto questo richiederebbe la disponibilità e la serietà da parte dei sindaci. Problematiche in comune appunto come questa della viabilità. Secondo lei potrebbe essere utilizzato uno strumento particolarmente snello come può essere una conferenza dei sindaci? Sì, la conferenza dei sindaci è uno strumento che viene in aiuto, ma bisogna evitare primazie, cioè mi spiego, se qualche volta che si è provato a metterle insieme c'è il problema di chi la può convocare, chi la deve convocare, dove è opportuno che si riunisca e poi questo avviene a scadenza di 3-4 mesi, di fatto non si produce nulla. Quindi più che essere armati di buona volontà diventa difficile. Ovviamente i cittadini queste cose non sono tenuti a doverle accettare, debbono legittimamente chiedere che le cose vengono risolte e quindi di fatto poi alla fine i sindaci sono soli alla meta, cioè si arriva di fronte ad una serie di problematiche che è la congestione del traffico, inquinamento dei corsi d'acqua o d'altro dove si è davvero in difficoltà. Ecco, queste tematiche in comune debbono necessariamente essere affrontate. Le ha lanciato anche una sorta di appello in questo momento ai suoi colleghi mettere da parte un po' anche, diciamo, una diversità di opinione. Io volevo un po' riprendere con lei anche un'affermazione, un pensiero del Papa quando è arrivato qui in Campania a Petrelcino. Ha detto che la litigiosità non porta da nessuna parte, non fa crescere le comunità. ha rimarcato questo concetto nella sua visita in Campania. Riprendiamo un po' da dove ci eravamo lasciati, insomma, quando di comune accordo si adottavano delle decisioni e il territorio cresceva. Allora, la fase positiva c'è stata fin tanto che scoperta l'elezione diretta dei sindaci come novità, quindi a inizio anni 90, tra il 93 e il 95. Noi abbiamo votato per la prima volta a Nocera con l'elezione diretta nel 95 con le elezioni di Matteo Forte. Poi quel decennio è stato coperto dagli strumenti di cosiddetta concertazione, cioè che organizzavano il territorio in modo partecipato. Dopo questi sono diventate scatole vuoti. Io non sono d'accordo sul fatto della litigiosità. Qui non c'è una litigiosità. Qui non c'è il coordinamento. Cioè quello che manca è una situazione prelitigiosa addirittura. Cioè manca la capacità di sedersi insieme a discutere e tentare di risolvere insieme determinati problemi. Poi su queste vicende c'è il cappello partitico che viene calato da alcune realtà. Dalla destra o dalla sinistra cambia poco. Quindi questa è la difficoltà che noi viviamo e che dovremmo cercare finalmente di saper risolvere. Spesso ci fermiamo anche di fronte ad un divieto di transito di senso di marcia dove delle volte si verificano scontri o difficoltà. Per esempio quando abbiamo adottato l'ordinanza limitativa del traffico per lo smog con l'uscita al casello autostradale dei mezzi pesanti per evitare il carico di smog che noi abbiamo vissuto nell'ultimo periodo ci siamo poi trovati col fatto che i comuni vicini, Nocera Superiore e Pagani ma in particolare Nocera Superiore hanno detto ma l'uscita del traffico in particolare da Cava che arriva fino a Nocera Superiore ci pone problemi dal punto di vista del carico sulla statale quindi del rischio di smottamento degli spondali dell'alveo poi non sappiamo quanto tecnicamente è fondato o meno ma di fatto è stata anche segnalata questa criticità così come tante altre cose. Il territorio dell'Agro Nocerino è notoriamente cresciuto in modo disordinato chi oggi si trova a fare l'amministratore, il sindaco delle città gestisce problematiche pluridecennali spesso li gestisce sotto i colpi o i riflettori dell'autorità giudiziaria la quale giustamente deve vedere le responsabilità quali sono e le responsabilità diventano terminali cioè poiché non è che si riesce a scavare a ritroso nei decenni precedenti chi è che tiene adesso il cerino in mano Infatti sindaco, lanciamo una proposta, siamo propositivi con l'intento anche di costruire una proposta che possa andare bene ma non nella fase iniziale magari anche avvalendosi di competenze tecniche più specifiche, di illuminari perché forse qui ce ne sarebbe bisogno rispettate alcune problematiche quale può essere l'urbanistica e la viabilità e i trasporti. Ma la proposta può essere quella di indire, fare indire una conferenza dei sindaci di indirla anche in modo partecipato cioè sulla richiesta di più sindaci del territorio o di tutti i sindaci del nostro territorio di cui si può fare promotore uno dei sindaci ma lo stesso presidente della provincia non soltanto in quanto presidente della provincia e provare ad investire della soluzione di determinati problemi le autorità che abbiano capacità scientifica, competenze scientifiche nel mondo dell'università. Dicevamo dunque di una crescita, uno sviluppo della città dal punto di vista socio-economico complice anche le frequentazioni questa è diventata meta anche di quel turismo tra virgolette del venerdì, del weekend, del venerdì sera, del sabato sera ovviamente anche qui si sviluppa parallelamente una problematica è quella legata alla sicurezza. Come garantire? Lei ha chiesto alle forze dell'ordine una maggiore presenza quindi anche la polizia locale ma lo stesso commissarato di polizia e i carabinieri ci sono anche delle possibilità diverse un dialogo con i gestori magari dei locali pubblici perché loro stessi possano vigilare sugli avventori? Innanzitutto io voglio dare merito ad una risposta immediata che la polizia di Stato e le altre forze dell'ordine anche la polizia locale ovviamente ha dato ad una sollecitazione espressa che ho loro rivolto in modo formale richiedendo un intervento maggiormente presente per i fini di settimana se questo si è verificato proprio a cavallo dei due episodi più saliti agli onori della cronaca cioè quelli due episodi di gruppi di ragazzi che si sono picchiati e hanno litigato tra di loro in piazza del corso la risposta è stata immediata sia in termini di presenza sia in termini di segnalazione all'autorità giudiziaria questa è ragione per me diciamo di ringraziamento motivo di ringraziamento rispetto alle forze dell'ordine che sono intervenute subito ovviamente da sola la repressione non bassa però io dico anche non dimentichiamola perché altrimenti col rischio di sembrare repressivi non si fa niente così come tutto il resto diciamo della cosiddetta rete di supporto sociale è una cosa che in parte deve assolvere un'amministrazione comunale con i servizi con le formazioni di istruzione con le forme di supporto e di assistenza alle famiglie in difficoltà ma c'è molto di culturale in questo disagio cioè c'è una società obiettivamente soggetta ad una disgregazione molto aggressiva nella comunicazione nella comunicazione verbale noi vediamo dai social quando c'è stata la storia dell'allerta meteo c'è stato il caso del mio collega Di Pagani che addirittura ha dovuto fare una nota di censura pubblica rispetto a ragazzini che ne hanno dette di tutte e di più nei confronti del sindaco dell'istituzione così come nei miei confronti è chiaro che io non ho fatto nessuna nota di censura perché avrebbe significato perdere del tempo però comprendo e rispetto la decisione del sindaco Di Pagani dico però che se il linguaggio quotidiano delle persone adulte voi vedete i social come funzionano è continuamente aggressivo verbalmente violento calunnioso diffamatorio e la rete delle condotte quotidiane salta di che assistenza sociale noi vogliamo parlare se poi ci sono costumi quotidiani così scassati poi ci sono casi di famiglie che diciamo che non riescono a seguire i figli ma ci sono tantissimi casi ho letto una lettura sociologica che è stata data sui quotidiani in questi in questi giorni sono i figli di Gomorra ma Gomorra non c'entra nulla diciamo sì ci sono i casi di gruppi di ragazzini malavitosi che afferiscono a famiglia o a storie malavitose ma questo riguarda la storia della città da 50 anni a questa parte non c'era quello che si sta verificando più di recente che è legato a un costume sociale disgregato di fatto saltato nei comportamenti quotidiani e su quello che uno dovrebbe esercitare è una forma di autocontrollo anche la politica conosce forme di aggressività e di discredito che sono fuori da ogni creanza istituzionale fuori da ogni equilibrio fuori da ogni verità spesso e volentieri quando salta il sistema delle verità e dell'equilibrio che va insieme alla verità allora diventa tutto più complicato anche la gestione dei comportamenti quotidiani se nelle scuole l'insegnante è stato delegittimato perché se censura il ragazzino in modo un po' più fermo arriva il genitore magari sul SUV perché ha i soldi e pensa di essere legittimato a dire o a fare quello che vuole o magari non viene sul SUV con la grande auto ma ci va a piedi perché poveretto lui è uno scalcagnato ma si ritiene in diritto essendo un mezzo delinquente di poter dire qualunque cosa è chiaro che diventa complicato tenere insieme i rapporti qui non è solo un problema di malavita che c'è e va combattuta è un problema di quotidianità dei comportamenti il ruolo centrale che dovrebbero avere le famiglie e ritornare un po' a quello che era il ruolo principale e quindi un problema sociale che non è soltanto della singola città dell'agro o della provincia di Salerno o della provincia di Napoli ma è un problema complessivo come fronteggiarlo perché Nocella Inferiore è stata anche arrivata alla ribalta due giorni fa anche per una pseudo baby gang che girò non solo per le strade della città incutendo terrore soprattutto ai ragazzini ai coetanei se non anche poi agli adulti ecco come rispondere come risponde lo Stato come rispondono le istituzioni la prima cosa è fermarli poi si discute della rete sociale della rete culturale la prima cosa è fermarli questo fenomeno era stato già attenzionato e seguito un po' dalla polizia locale per vari atti di vandalismo che si erano verificati qualche anno fa un paio di anni fa io non so se si tratta degli stessi ragazzini non so di chi si tratti a dire la verità però era stato già attenzionato oggi la risposta dopo l'episodio che c'è stato un sabato sera in città la risposta è stata più forte più immediata e più dura da parte della polizia di Stato ed è stata quindi positivamente apprezzata ed apprezzabile su richiesta e formale sollecito da parte del sindaco insomma ma era comunque un fenomeno che la polizia immagino stesse controllando il rischio qual è che se si limita soltanto ovviamente all'aspetto repressivo non basta allora è chiaro che c'è tutta una rete di rapporti anche di servizi sociali che andrebbero messi in funzione però ritorno a dire il dato è culturale è pre-organizzativo cioè è di mentalità se non c'è quello diventa difficile dare una risposta la nostra preoccupazione è legata a quella che è la quotidianità del fine settimana anche del sabato sera o del venerdì sera ormai perché è molto anticipato il tempo della cosiddetta movida quando vediamo che ci sono episodi in pieno centro è chiaro che l'allarme salta agli occhi perché il rischio è che si possa avere una conflittualità che degenera e perde anche valore quello che siamo riusciti a conquistare in termini di gradimento in termini di vivibilità di percorribilità della città appunto questo non è solo nell'interesse dell'istituzione o dell'ente ma anche nell'interesse di chi degli operatori economici che ecco gli operatori economici però dovrebbero iniziare anche loro noi a far rispettare le regole lo dobbiamo fare ma loro a rispettare le regole perché la quotidianità salta nel momento in cui il percorso pedonale ostruito da troppi tavolini rispetto alle autorizzazioni concesse dal rilascio di alcolici a persone minori magari dalla musica ad alto volume quando non la si dovrebbe tenere perché disturbi il condominio e magari le persone che dormono in piena settimana perché gli eventi spesso sono ricondotti al giovedì sera quindi in spregio a regolamentazioni che noi abbiamo prescritto e previsto consideriamo che noi non abbiamo io adesso ho sollecitato l'attivazione di un pattogliamento serale notturno nei fini settimana quindi fare un piano un programma predisposto dedicato da parte della polizia locale si dovranno trovare le risorse necessarie ma è necessario poterlo fare per avere un servizio di controllo anche nell'ora che va fino alla mezzanotte sapendo che poi spesso questi eventi si trascinano oltre la mezzanotte quindi l'autocontrollo la capacità dei gestori dei locali di non fare insomma una muina permanente e serve a dare una vivibilità quotidiana la maggiore sicurezza va bene a tutti e quindi bisogna garantirla a 360 gradi c'è chi lamenta anche la scarsa presenza di uomini in divisa per strada che potrebbero rappresentare un deterrente per i piccoli per i minori ma anche per una popolazione un po' più adulta questo è quello appunto che le dicevo per ora c'è stata la risposta della polizia di Stato speriamo che continui anzi chiederemo che continui abbiamo chiesto già che continui per i prossimi fine settimana e la polizia locale che deve attrezzarsi anche come risorse di disponibilità per un programma di servizio notturno in vista della primavera che ormai è imminente a dispetto del tempo Ecco Sindaco una città che rinasce nel senso che arriva alla primavera c'è una programmazione che ci porterà all'estate cosa bolle in pentola per questa amministrazione comunale? Io adesso su questo non so dirle nel dettaglio so che l'assessorato se ne sta occupando però io credo che noi abbiamo una serie di punti di segnali positivi sotto vari fronti dal punto di vista delle iniziative culturali quelle delle scuole delle associazioni che sono tantissime che vengono poi patrocinate e organizzate dall'amministrazione ci sono eventi centrali come quelli teatrali come quelli di varie manifestazioni che si tengono in città c'è stato il carnevale che è stato poc'anzi gestito in maniera io dico eccellente dalle varie associazioni e dal comune quindi c'è sempre una regia comunale nelle attività ovviamente la prima forma di collaborazione di iniziativa va spalmata tra le tante associazioni che provano a fare qualcosa e che riescono spesso bene a fare qualche cosa io credo che per la prossima primavera e per la prossima estate noi saremo più tempestivi di quanto non siamo stati per il Natale dove siamo stati tardivi su una serie di iniziative e conto che questo possa essere diciamo positivo ulteriormente per la città di Nocera non dobbiamo fare un altro rischio non dobbiamo correre un altro rischio e su questo la stampa ha una grandissima responsabilità le notizie non vanno occultate ma non vanno neanche enfatizzate perché spesso si inseguono dei cliché di carattere titolistico che sono fuori la realtà e poi magari si scassa il clima che invece è positivo allora attenzionare i fenomeni controllarli puntarci i riflettori reprimerli perché non è una parola che deve spaventare anche se non esaurisce tutto ma intanto quando c'è un danno va fermato poi si vede tutto il mondo alle spalle e dico anche bisogna anche poi dare la giusta luce magari uno due episodi importanti se sono segnali non facciamolo diventare l'assalto al fortino che non c'è perché altrimenti poi si ha un deterrente negativo e il clima negativo si autoalimenta ecco le città vanno vissute vanno vissute soprattutto a piedi per quanto riguarda dei centri urbani lei è stato il primo sindaco ad adottare dei provvedimenti drastici per quanto riguarda la viabilità almeno nei fine settimana per fronteggiare un'emergenza ambientale perché non c'era inferiore una città che è dotata di centraline e che riesce a percepire anche la soglia di inquinamento una sicura l'abbiamo è una centralina ARPAC sulla nazionale ovviamente sono quelli che la febbre se la misurano e quindi sanno che ce l'hanno alta poi ci sono altri comuni i quali non la misurano proprio perché dicono che non ce l'hanno e quindi questo è un problema dal punto di vista del controllo noi abbiamo mantenuto la zonizzazione a traffico limitato cercheremo di portare quanti più eventi possibili tra il sabato e la domenica anche per pedonalizzare di fatto il centro cittadino per esempio questi eventi della corsa sono anche ne sono parecchi ripetuti e sono molto positivi perché c'è una frequenza ormai pressoché quindicinale da qui alla prossima primavera le varie corse e maratone che si svolgono proprio a Nocera bisogna potenziare diciamo questa abitudine a percorrere la città a piedi perché si ha voglia di lamentarsi del traffico ma se per prendere il caffè e si prende l'automobile per andare magari a 700 metri di distanza diventa complicato gestire poi la viabilità io la ringrazio per questa chiacchierata buon lavoro grazie ancora